Bragan Stankovic in battuta, forte recessione di Bottolo, poi dietro per Vlodarci, tocca al muro, fuori giocare Modena, si volta in quattro da Nema, palla corta morbida, la palla a terra, rimonta completata, 12 pari, grazie al tocco vellutato del professor Nema Petric, 12 pari. Entra Merlo per il servizio, Carlicek in difficoltà, Porro ha una mano per Stankovic, pezzo pregiato questo di Paolino Porro, recessione difficoltosa di Carlicek, adesso esce Paolino Porro che ha fatto bene.